ciao a tutti ragazzoli bentornati su ATGAMING siamo qui con ESID per procedere alla conta sei pronto creep e fa la conta? vai contamo hanno commentato in tantissimi 43 sono un puttanaio ce l'aspettavamo davvero stavolta no allora allora ho visto ci sono un paio che hanno commentato tipo mimmo paciola che ha commentato 1 e 5 contano solo il primo devoto è il primo numero che è stato indicato allora io conto di 5 tu conta di 6 ok allora 1 2 3 2 3 aspetta sono arrivato giovanni pio eccolo 8 5 6 contaviano mi sono perso licorio non si non mi까요 io pure no ma dai allora 1 1 2 3 4 5 7 7 8 9 10 10 togli un po' comando staglio un po' comando 17 17 5 E 17 6 Parità parità Aspetta conto pure gli altri Allora 17 17 Io non so 1 2 3 4 4 1 Abbiamo anche un voto sul 4 Un paio Sul 3 E uno sul 2 Ok quindi praticamente È tutto nelle nostre mani Perché Mancano soltanto le votazioni nostre Perché c'è stata una situazione di parità Tra il 5 e il 6 E Siamo pronti a svelare i nostri voti I nostri 5 voti Che decideranno Non mi aspettavo sinceramente Una situazione di parità Però No Dai siamo pronti Un bel concorso stavolta Comunque Allora Intanto diciamo I nomi dei 3 Che sono Mario Passa l'acqua Che praticamente Non so come Mi aveva scritto Il suo tag di youtube Ma adesso Non me lo ritrovo Quindi lo chiamerò per nome Che c'ha Per nome che ci ha mandato Praticamente su facebook Per il video Che sarebbe il numero 5 Poi C'è Roemon O Monroe Penso Che Che è il numero 6 E Kurt Godel Che è il numero 1 Questi sono i 3 finalisti Allora Godel Abba il terzo E si becca la copia di Erzson Mentre Chi tra i due Sarà il primo Allora Comincio Comincio io Dicendo Intanto passo Alla Alla visualizzazione del canale Comincio io Dicendo Il voto di Foffi Il voto di Foffi È il numero 1 Quindi Un altro voto Per il terzo classificato Il voto Di sentenza Va Al numero 1 Quindi Un altro voto Per Il terzo classificato Mentre Il voto di Roberto È Il numero 5 E passa in vantaggio Per il momento 18-17 Per il numero 5 Il voto di Cristiano Cioè Esid È il numero 6 Parità 18-18 Manca solo il mio Manca Manca solo il mio Che è Il numero È il numero Il numero 5 Anche per me Quindi Vado con la folla Io E Voto anch'io Il 5 E quindi Sì Il numero 5 Vince Pare che abbiamo Un vincitore Sì Il numero 5 Vince Starbound Era Mario Passa All'acqua Morro O Roymon Vince La copia Di Terraria E Godal Vince La chiave Di Erzson Allora Adesso Mandateci Un messaggio Privato O contattateci Tramite facebook Che Vi manderemo Le chiavi Di ogni gioco Grazie a tutti Per aver partecipato E grazie a tutti voi Per aver votato Con passione È stata Un'affluenza Proprio inaspettata Un'affluenza numerosa Sì 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 Siamo stati molto contenti Grazie a tutti Quindi un saluto a tutti Da Dagli Attic Gaming Spero vi sia piaciuto Il giveaway Ne faremo altri Logicamente Questa volta Anzi vi anticipo Il premio Del prossimo giveaway Che penso Vi piacerà un po' A tutti Una foto Di commando Nudo Nudo Sì Sarà quella La foto No Sarà Una scheda Da 10 euro Per Steam O per Xbox Live Sceglierete voi Poi quale Delle due Vorrete Quindi Al prossimo giveaway Partecipate Numerosi Perché potete Vincere 10 euro Per Xbox Live Oppure 10 euro Per Steam Continuate a Tenere occhi il canale Continuate a seguirci E supportate Comunque non siamo troppo buoni Fa un sacco di regali Vabbè Ma la gente È marketing È marketing Un saluto a tutti Ragazzoli Ciao 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 Ciao